Sono stati rigettati i ricorsi presentati dai comuni di Castellumberto, Capodorlando, Terme Vigliatore, Caprileone, Galatima Mertino, Rodimilici, San Salvatore di Fitalia e Ucria, presentati contro il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Città Metropolitana di Messina, rappresentata dall'Avvocato Giuseppe Passaniti e nei confronti del Comune di Taormina. I comuni rappresentati dagli Avvocati Rosario Ventimiglia, Enrico Maria Antonio Giardinieri, Sebastiano Ravì e Flavia Galbato Muscio hanno chiesto l'annullamento del decreto che li ha esclusi dai piani urbani integrati, cosiddetti PUI, finanziabili, selezionati e presentati dalle città metropolitane con risorse del PNRR per promuovere la rigenerazione urbana, progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico. La Città Metropolitana di Messina, alla quale la legge ha assegnato la somma di oltre 132 milioni di euro, quale soggetto attuatore e coordinatore dei PUI, ha indetto incontri di concertazione tra i soggetti coinvolti dalla procedura, e cioè il sindaco metropolitano, i refidenti tecnici della città metropolitana e i sindaci per l'avvio delle procedure per l'individuazione dei progetti da finanziare. Ufficializzato il bando, i comuni di Castellumberto, Capodorlando, Terme Vigliatore, Caprileone, Galatima Mertino, Rodimilici, San Salvadori di Vitale e Ucria, hanno partecipato ma la proposta progettuale è stata però esclusa perché presentata fuori termine. Da qui il ricorso dei comuni. Nel merito il ricorso è stato giudicato infondato dal Tar di Catania perché il termine di presentazione dei progetti era perentorio, 22 marzo 2022, e sono stati presentati fuori termine, cioè il 28 marzo successivo. Anche la domanda di risarcimento del danno che il comune ritiene di aver subito per effetto della presunta condotta illecita della città metropolitana è stata rigettata e emerso dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione prodotta che non è possibile imputare alla città metropolitana alcun tipo di condotta passibile di censura nella volontà di danneggiare i comuni.